Vorremmo tanto darvi una buona notizia e raccontarvi che i poveri in Calabria sono diminuiti e che il Banco Alimentare ha meno bisognosi da aiutare. Purtroppo non è così, anzi, il numero di indigenti è in continuo aumento e i numeri fotografano una situazione drammatica che coinvolge tantissime famiglie calabresi. 250.000 famiglie, quindi un numero veramente esorbitante, verso cui noi pensiamo di fare sempre di più e sempre meglio. È una festa, quella organizzata per il trentesimo anniversario di attività del Banco Alimentare, che nasce dalla sofferenza e dal bisogno e che diventa solidarietà, grazie alla generosità di tanti e all'impegno costante di collaboratori e associazioni che permettono di recuperare e distribuire oltre 5.000 tonnellate di cibo. Non è la festa del Banco, è un popolo fatto da persone, da volontari, da persone che hanno anche bisogno, da tante associazioni soprattutto, che ci aiutano ad aiutare poi a nostra volta tutte queste persone. La mappa della povertà calabrese ci dice che la provincia con più assistiti è quella di Reggio Calabria, che ne ha oltre 42.000. Segue Cosenza con 38.000 assistiti e 225 partner, Catanzaro con 13.000 assistiti e 92 partner, Crotone con 9.800 assistiti e 43 partner e Vivo Valencia 4.089 assistiti e 26 enti territoriali. Le iniziative del Banco Alimentare continueranno nei prossimi giorni nelle scuole e nei luoghi istituzionali. Noi siamo un po' collegati in un viaggio un po' ideale con tutti i banchi d'Italia in questo momento, quindi oggi partiamo da Cosenza, c'è un furgone appositamente allestito e faremo anche questa campagna dal titolo La fame non va in vacanza, attraverso cui con una piccola donazione si possono comprare due marmellate e poi devolvere al nostro lavoro per aiutare a contrastare la povertà.